Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove ci sono rallentamenti per lavori tra Empoli-Ovest e San Mignato in direzione Livorno. In A1, corsie di sinistra chiuse tra Firenze-Sud e Firenze-Scandici in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e in Pruneta, in direzione Firenze. Ricordiamo che sono in corso a cura di Anas le operazioni di riapertura del viadotto Puleto sulla statale Trebbis-Tiberina, che dovrebbero concludersi entro la settimana. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, per una frana è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo-Amozzano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!